sembra che funzioni oh mamma c'è solo una mamma qui la futura mamma fammi il controllo possa ipocrati aiutarmi iniziamo un bambino del genere difficilmente può essere definito un bambino piccolo è formidabile non mi sono laureato per questo aspetta dottore devo sapere con certezza che va tutto bene con il mio bambino le donne incinte non dovrebbero avere preoccupazioni ma sembra che in questo caso sia il dottor rogers quello preoccupato ci deve essere qualcosa di utile qui trovato lo fonderò per fare dei denti nuovi chissà dov'è il mio spazzolino da denti un cattivo aspetta ora mi occupo di te wow girl in guardia ladro aspetta un secondo devo solo un momento ho fatto sono pronto sei finito prankster non puoi battermi ragazza oh quanti dolcetti cosa stai aspettando sto morendo di fame levati pagliaccio farei meglio a mangiare sì mi aspetta una cena meravigliosa non ho dovuto fare niente mi hai perso vai a dirlo alla polizia genio e restituisci la catenella andare dal dottore è un evento emozionante anche per le super eroine incinte sono preoccupata andrà tutto bene tesoro rilassati e lascia andare la mia mano mi serve per impugnare il tridente dottore ci parli solo della salute del bambino vediamo cosa strano forse la macchina è rotta provo ad ascoltare così no la macchina ha mostrato tutto correttamente è andato cosa facciamo adesso non preoccuparti ci penso io sì il dottor rogers ha avuto una settimana difficile con questi pazienti deve essere pronto a tutto cosa è stato sono vivo penso di sì stai bene sì sto bene l'importante è che non ci sia tempesta e che l'ambiente sia buono per il bambino per le loro mogli incinte i super eroi sono pronti a tutto tesoro ho portato del cibo fantastico ho famissima popcorn mangiateli tu patatine ma stai scherzando cereali questo non è cibo qui dentro ci sono solo cereali merendine e dolci non hai comprato niente di normale cosa intendi con normale se non ti piace beh non mangiare devo calmarmi ho una soluzione troverò sicuramente qualcosa per lei qui vuoi un po di latte vegetale al cocco no va bene forse un'insalata allora non ha senso non va bene per noi o è così ne ho avuto abbastanza allora scegli tu no no non farlo sì le super eroine incinte sono molto difficili da accontentare e a quanto pare strange man ha esagerato un po quale difficoltà pensi che debbano affrontare le super eroine incinte scrivi la tua risposta nei commenti sotto al video dai ce la puoi fare non ce la faccio più perché ci vuole così tanto wow te l'avevo detto che sarebbe andato tutto bene hai fatto un ottimo lavoro congratulazioni ai neo genitori questo è il vostro bambino grazie abbiamo avuto un maschio tesoro ecco un altro maschio un altro sembra che questa coppia non si aspettasse un'aggiunta così grande alla loro famiglia è solo che in fatto di gravidanza non dovrebbero dimenticare che cat girl non è solo una ragazza ma anche un gatto pronto forse non c'è segnale oh questo non è un telefono pronto sì è il reparto maternità hulkman spacca calmati siamo venuti solo per l'ecografia oh certo tesoro siediti va bene dottoressa cominci che coppia insolita beh vediamo oh non ho mai visto niente di simile dottoressa tarner vieni un attimo collega guarda è un cucciolo di ragno verde posso farlo ora devi caro hulkman spacca devo andare oh no non avrei dovuto farlo così impari a offendere i supereroi qualcuno mi aiuti ogni ragazza incinta sa che una buona alimentazione è la chiave della sua salute e di quella del bambino e una supereroina incinta dovrebbe mangiare particolarmente bene poiché il futuro salvatore del mondo cresce dentro di lei tesoro sono a casa sei giusto in tempo per la cena amore oh sembra che qualcuno voglia fare uno spuntino sì è facile rimanere affamati con una moglie così veloce ah ora siamo pieni tesoro vorrei mangiare almeno un wurstel aspetta un attimo tesoro ho qualcosa per te ecco qui patatine buone grazie cara non resisterò a lungo con questo tipo di cibo ho fame ma non ho affatto voglia di andare in cucina il mio bellissimo hamburger delizioso ora ti mangerò hamburger è esattamente ciò di cui ho bisogno caro il bambino sta scalciando lo senti? wow controlli come sa? certo tesoro questi futuri genitori sono stati fortunati perché andare a fare un'ecografia se la visione è raggi x ha funzionato buonissimo Jessica dov'è il mio hamburger? non sono stata io come sempre adesso controllo Jess ha il mio hamburger nella pancia non sono stata io è stato il bambino ha fame ma questo è il quinto hamburger so di cosa hai bisogno aspetta qui farò presto sì l'amore dei gatti per le scatole non ha confini non so mi pare che sia troppo piccola non riesco a entrare va tutto bene amore ho qualcosa di adatto ecco proprio come avevo promesso wow è perfetta finalmente avrò una buona notte di sonno fa così caldo qui non riesco a respirare e l'acqua nel mio bicchiere è sparita ne voglio dell'altra ma non riesco a raggiungerla oh 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 sei così buffa cosa hai detto? ora vedremo chi sembrerà più buffo non farlo Jessica non volevo offenderti bene la prossima volta Superboy ci penserà due volte prima di ridere della sua super moglie incinta ottimo e non ho più bisogno della caraffa e io devo asciugare il costume oh non mi dispiacerebbe farmi fare un massaggio allora c'è qualcosa da lavare? non ci credo cos'è questo? ecco è finito Alan hai i capelli di una donna sulla tua giacca chi è? Jacqueline sei tu in realtà sono i tuoi capelli sono blu oh pensi che sia colpa mia? non me l'aspettavo da te è molto difficile rimanere calmi quando gli sbalzi di umore di una moglie incinta ti prendono costantemente alla sprovvista tesoro per favore grattami la schiena come piace a me come vuoi tesoro che bello eh avevo proprio voglia di boxare ma l'importante è che mia moglie sia felice oh mi servirebbe un piccolo spuntino tesoro mi tagli una mela con piacere ti è piaciuto il nostro video? allora premi like iscriviti al nostro canale e non dimenticare di fare clic sulla campanella a presto ciao 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 ciao